io la facciamo mettere la zona ti faccio passare di lì fai passare dove vuoi ti faccio passare di lì no il tronco no perché è tutto rotto e marcio non lo faccio il sasso posso anche provare il tronco no perché se si rompe faccio la fine di il Danilo questo qui lo faceva Danilo Galeazzi una volta Danilo Galeazzi quello lì lo faceva proprio lo mangiava così anche il canobio lo faceva con la ruota davanti lo faceva Danilo quello lì proprio non lo vedeva dai metti giù una zonetta che cazzo li metto? non li infilati qua una bella pancia tipo lui il sacchetto l'ho fatto bucare mi sembra di essere andato al mercato di Cantù al coso non avete fatto un cazzo tu cosa hai fatto? io vi video cazzo qua lo arriva da turbigo per venire fino a qua a girare e poi non lo fate neanche girare e che cacchio dai hai caricato la moto? sì hai caricato la moto? gli ho detto di provare il montese ma ha detto che pesa troppo ma no quella gente di poi noi abbiamo girato noi siamo andati giù se mi facete ho visto ho visto giù le prove che devi girare la moto devi piegare oh gli ho fatto l'ultima che ha fatto a zero ma cazzo hai fatto? non lo ha fatto una troppa il montese che l'ha fatto ma lo conosco questi ma il bolo come va? ti ha risposto ma lo conosco per fare un cazzo ma lo conosco